Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo storico, ispirato dalla vita straordinaria della prima donna medico cinese. Lady Tian e il circolo dei fiori di loto è una storia avvincente di donne che aiutano altre donne. Un esempio di determinazione, coraggio e resilienza. Che ispira a sfidare le convenzioni e a perseguire i propri sogni, anche quando sembrano impossibili. La trama del libro Lady Tian e il circolo dei fiori di loto della scrittrice Liss Si, pubblicato dalla casa editrice longanesi è la seguente. Cina, quindicesimo secolo. Secondo Confucio una donna istruita è una donna senza valore, ma Tan Yunxian non è d'accordo. Rimasta senza la madre, fin da bambina le vengono insegnati dai nonni i pilastri della medicina cinese, i quattro esami, guardare, chiedere e ascoltare, annusare e toccare. Sentire il polso. Un approccio che un medico uomo non può mai mettere in atto con una paziente donna perché la tradizione lo vieta, giudicandolo sconveniente. E così ci sono donne che devono curare altre donne, come Meiling, promettente levatrice che conosce la consistenza dei corpi e la viscosità del sangue. Per lei toccare è prassi quotidiana. Mentre per un medico è riprovevole. Yunxian e Meiling si scambiano nozioni e rimedi, diventano amiche e giurano che condivideranno gioie e battaglie. Niente fango, niente loto, si dicono, dalle avversità può sbocciare la bellezza. Ma poi Yunxian è costretta a sposarsi e tutto quello che ha costruito sembra franare. Tutto quello che ha imparato sembra dover essere dimenticato, ora che ha una moglie. Ma il suo desiderio di curare, di aiutare donne e ragazze di ogni ceto sociale è più forte persino della tradizione, alla quale si ribella. Con l'aiuto di Meiling, Yunxian si spingerà così dove nessuna donna cinese era mai arrivata, contribuendo in modo indelebile al progresso della medicina. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.